Come è andata questa fiera? Allora la fiera è andata molto bene, c'è stato un buon afflusso di gente, nonostante la situazione appunto geopolitica che ha frenato un po', comunque abbiamo lavorato molto, il nostro mercato è quello del Medio Oriente, ovviamente tutto quello che è successo ha un po' frenato da una parte, però devo dire che siamo molto soddisfatti dell'andamento generale della fiera. C'è chi ha fatto buoni affari e chi un po' meno, l'edizione numero 43 di Oro Arezzo si è chiusa con un bilancio comunque positivo, di certo Arezzo rimane punto di riferimento per l'oreficeria made in Italy. Poco significativa, non abbiamo visto poi una grande affluenza nel pubblico né quelli che si sono presentati poi avevano un grande interesse da acquistare o a fare ordine, è stata una fiera peggiore rispetto a quella degli anni precedenti, dipende essenzialmente dalle condizioni di mercato, dalle quotazioni dei metalli preziosi che sono eccessivamente alte, che probabilmente creano incertezza nel mercato e poi le conseguenze alla lunga sono queste insomma. La situazione geopolitica e il prezzo del metallo sono i principali motivi di un mercato ancora con il freno tirato, anche se alcuni operatori hanno raggiunto un risultato insperato alla vigilia della fiera. È un bilancio molto molto positivo per quello che riguarda la nostra azienda, ovviamente il nostro prodotto contro le aspettative della partenza, visto un po' la situazione generale tra prezzo dell'oro, mercati. 109 i paesi di provenienza dei buyer, fa sapere IEG, i visitatori esteri sono aumentati del 14% in crescita, anche l'Italia con un più 4%. Proprio sui buyer gli operatori però chiedono un maggior coinvolgimento e un prezzo più calmierato per gli stand. Secondo voi i buyer sono selezionati in maniera corretta? Ma ecco, questo è stato il mio punto di domanda perché secondo me a questa fiera qui sono mancati i buyer giusti, quelli delle grandi distribuzioni che comunque fai anche i numeri. Quando ci sono catene di negozi piccoli, come mi sono ritrovata in questa fiera qua, i numeri fai un po' più fatica a farli. Sentire questa volontà di collaborare fa bene al settore, è chiaro che non possiamo coinvolgere mille aziende o anche le 380 che spongono per condividere una lista di buyer. Quindi c'è un comitato scelto da IEG e dalle associazioni di categoria che rappresentano però tutte le aziende, quindi diciamo che tutte sono rappresentate attraverso le proprie associazioni di categoria. Chiaramente il costo è importante, è un costo molto alto, costa meno andare a Las Vegas per esempio perché ci sono i fondi dell'internazionalizzazione delle Camere di Commercio. Quindi è chiaro che con un aiuto da parte dello Stato è più facile andare a esporre ad una fiera. Chiaramente questa è una fiera del nostro territorio, bisognerebbe che IEG venisse incontro alle aziende con anche degli allestimenti più snelli per cercare di far partecipare più aziende possibile, anche quelle magari un po' meno strutturate che hanno la necessità di essere presenti ma non possono sostenere costi alti. Quindi questo sicuramente è fondamentale, lo abbiamo fatto presente e continueremo a portarlo nei tavoli di lavoro con IEG.